Sempre Milano, ma quella del volley che si prepara alla prossima stagione senza nascondere le sue ambizioni. Uno dei rinforzi arrivati quest'anno dal mercato è lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, presentato oggi in un luogo simbolo, tra l'altro, della città. Sì, la presentazione di oggi è stata fantastica e Yuki è stato il pretesto per essere qua. Avere il duomo alle spalle, essere la società di Milano ti inorgolisce e allo stesso tempo ti dà un senso di responsabilità importante. Vedremo come andranno le cose in campo, noi cerchiamo di fare il possibile fuori dal campo per attornare tutte le cose che sta facendo il nostro allenatore. È un piacere, sto lavorando bene, sto tornando a sensazione, sto tornando fisico, quindi comincia il 13 settembre la Coppa Italia e faccio il mio massimo anche campionato è il 27 settembre, quindi stiamo lavorando in buona preparazione. Mi auguro che sia semplicemente il preludio anche per una stagione che possa rispettare le stesse aspettative che si stavano formando l'anno scorso quando abbiamo terminato la stagione, quando la stagione è forzatamente terminata, per cui diciamo che oggi iniziamo a muovere i primi passi verso il futuro. Grazie. 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 Grazie.